GF VIP 7, Chiara Rabbi commenta lo di Davide Donadei dopo il suo tweet. Class uguale P1 dopo lo scontro tra Davide Donadei ed Edoardo Tavassi, Chiara Rabbi è intervenuta sui social, lanciando una frecciatina all'ex fidanzato. Class uguale P1 ieri il VIP pone ha avuto un forte diverbio con il fratello di Gwendalina Tavassi, che gli chiedeva spiegazioni in merito al tweet di Chiara. Class uguale P1 Davide non ha apprezzato questa intromissione da parte di Edoardo, invitandolo a non parlare di lui. Class uguale P1 nelle ultime ore Chiara è intervenuta sui social, dicendo la sua sul litigio tra i due vipponi. La ragazza ha lanciato una stoccata al suo ex. Dumele tante printre talea culte, incerc flow-uri sute la show-uri, uite cum rup capete lumea de din capă rupte. Tobele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu-s atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi ține pentru tine, fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Totto, toți MC-ul care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic avezi tu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu? Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia parat.